L'Europa e l'euro sono a un bivio. Integrazione e solidarietà o dissoluzione e ritorno ai nazionalismi. Sembra paradossale che un paese come la Grecia rischi il default per una scadenza da un miliardo e mezzo alla fine del mese, quando il 18 marzo a Francoforte la BCE inaugurava il suo nuovo palazzo costato 1,3 miliardi di euro. È paradossale che esistano condizionalità tanto restrittive imposte a quei paesi che scontano un euro troppo forte per la loro economia, che esista solidarietà solo per le banche che hanno speculato, che esistano paesi del nord Europa come Olanda, Germania, che godono l'isquilibrio surplus commerciali violando i trattati nel quasi silenzio della Commissione, che esistano banche multinazionali in grado di condizionare le decisioni della politica e che allo stesso tempo usino stratagemi legali e sistemi oliati anticoncorrenziali come il modello lussemburghese creato da Juncker per eludere tassi o nei peggiori casi riciclare montagne di denaro sommerso come ha svelato Falciani. Mentre in Grecia si autorizza la vendita del cibo e medicinali scaduti e in mezzo a Europa si chiedono riforme lacrime e sangue che non porteranno mai alla risoluzione dei problemi. Draghi, lei non è apprezzato dai poveri e da chi ha un briciolo di onestà intellettuale, mentre è diventato l'icona delle nuove generazioni di operatori finanziari, cresciute sulle citazioni di Gordon Gekko che dietro i loro dodici monitor aspettano una sua frase per speculare. Bisogna portare l'uomo e il buonsenso al centro dell'economia e non l'avidità dell'uomo. LTO e quantità di visi sono misure varate senza imporre necessarie condizionalità alle banche e che non portano a nulla se non ad accrescere l'avidità di un mercato già eccessivamente drogato di denaro. I dati sono lampanti, state regalando miliardi agli speculatori, il sistema bancario presta solo a chi ha garanzia o bassa propensione a spendere, mentre i poveri sono a bocca asciutta. Come sempre, e per quanto denaro mettiate nel sistema, ne arriva troppo poco a chi ha bisogno di spendere per vivere. L'esploit del mercato del lusso e del superdiscount ne sono l'esempio. La forbice tra poveri e superlicchi si allarga nell'erozona e nel mondo. Questa situazione di stallo in Grecia potrebbe essere la sua occasione per far vedere che ha a cuore i cittadini e non gli speculatori. E arriva la domanda. Perché al posto di continuare a puntare sul sistema finanziario per rilanciare consumi e inflazioni con scarsi risultati e rischio bolle, non prende accordi coraggiosi ma necessari con gli altri eurocarti, Juncker, Trusk, Joseph Bloin, con i quali si sta vedendo in questi giorni, per rivedere i trattati e le regole della BCE. Potreste, per esempio, proporre di concedere subito lo spazio fiscale agli Stati per contrastare la povertà o addirittura fare un quantitativism per le persone, che è sempre meglio del quantitativism per gli speculatori. Prima che sia troppo tardi, perché, glielo ho detto, siamo un bivio in Europa, a breve non avrete da fare i conti solo con Grecia e Gran Bretagna, ma con molti altri paesi e governi poco ben disposti a trattative con chiavalle ai paradossi che vi ho prima elencato. Grazie. La risposta è che ci piaccia o meno. Le banche, i mercati esistono. Sono gli unici canali che noi conosciamo per le nostre politiche monetarie e per trasmetterle all'economia vera, reale. Alcune di queste politiche possono, magari, da una parte aumentare le disuguaglianze, e, d'altro canto, però, se noi ci chiediamo qual è la fonte principale della disuguaglianza, la disoccupazione. Quindi, nella misura in cui queste politiche aiutano e aiutano su quel fronte, sicuramente una politica comune monetaria nella situazione attuale è migliore rispetto ad una politica restrittiva a livello monetaria. Lei cosa vuol dire? Che dobbiamo aumentare i tassi di interesse della situazione attuale? Non pensiamo, no. Questo non lo credo. Quindi penso che dobbiamo agire sull'economia reale. Questo è il modo migliore per ridurre le disuguaglianze. D'altro canto, perché fare accordi con... Scusi. D'altro canto, abbiamo una relazione in cui si dice che per la prima volta cercare di mettere assieme e cercare di coordinare parere di molte persone, Eurogruppo, OBC o altro, persone che sono al centro dell'Europa. In pratica è il documento dei quattro presidenti. Essenzialmente le conclusioni sono state sottolineate e confermate anche dall'ELEO e dal Consiglio europeo. E adesso stiamo rifacendo la stessa cosa qui. Noi sappiamo benissimo i problemi, siamo consapevoli dei problemi. Copriamo oggi. Cerchiamo di fare il possibile. Se non ci riusciamo, ci abbiamo provato però. Signor Draghi, parlerò in greco. Innanzitutto benvenuto alla nostra commissione. E poi volevo dire che la disoccupazione in Grecia è al 26,6%. La disoccupazione giovanile è salita alle stelle, al 51,7%. Secondo i dati dell'ufficio statistico greco, venerdì scorso, il 40% della popolazione vive al di sotto della linea della povertà, il 45% dei pensionati prendono una pensione inferiore a 650 euro e l'amministrazione pubblica greca è attanagliata dalle difficoltà di far fronte agli impegni verso terzi. Signor Draghi, le leggo l'articolo 7 del regolamento 3603-1993 del Consiglio del 13 dicembre 1993 che prevede letteralmente quanto segue il finanziamento della BCE o delle banche centrali verso l'amministrazione pubblica per rispondere agli obblighi verso il Fondo Monetario Internazionale non si considerano meccanismo di facilitazione del credito ai sensi dell'articolo 104 del trattato. Visto che il governo greco affronta grossi problemi di liquidità per il pagamento delle rate del prestito assunto col Fondo Monetario Internazionale nel maggio del 2004 col pericolo di non riuscire a far fronte al pagamento. Le chiedo come Presidente della BCE quanto segue. Quale sarà la posizione del BCE nel caso in cui il governo greco considerando l'articolo 7 del regolamento 3603-93 in questione chieda alla BCE il finanziamento della Repubblica Greca per il rimborso totale o parziale del prestito succitato contratto con il Fondo Monetario Internazionale che, stando alle ultime notizie giornalistiche avrebbe silurato la conclusione di un accordo tra la Grecia e i creditori. Nella fattispecie vorrei ricordare che lei come amministratore della BCE ha dato autorizzazione in circostanze analoghe nel caso dell'Italia, Austria, due volte, Portogallo, mentre come governatore della Banca Centrale d'Italia a seguito dell'autorizzazione di Trichet ha finanziato il governo italiano per far fronte agli impegni assunti col Fondo Monetario Internazionale. Visto che la BCE, sulla base dei trattati, concludo, vigila a che le banche centrali nazionali rispettino i loro impegni secondo il trattato, quale sarà la posizione della BCE nel caso in cui finisco cinque secondi, nel caso in cui la Banca Centrale Greca o di un altro Stato membro dell'Eurozona procederà al finanziamento della Repubblica Greca al fine di pagare parzialmente o interamente i prestiti di cui ho parlato prima, contratti col Fondo Monetario Internazionale. Grazie. So, sono pienamente d'accordo con lei, la situazione greca è drammatica, soprattutto il mercato del lavoro, la disoccupazione, la disoccupazione giovanile, è drammatica. Per rispondere alla sua domanda, noi siamo legati all'articolo del trattato 123 che dice che non possiamo assolutamente procedere a un finanziamento monetario. Però, faccio una dichiarazione più generale. io non sono d'accordo con l'eccezione che lei ha detto, però la situazione economica in Grecia sembra sia di responsabilità degli Stati membri o delle istituzioni che non hanno dato finanziamenti sufficienti. io ho chiesto i conti completi dei flussi finanziari dal 2010 al 2015 e abbiamo visto che dei prestiti multilaterali, bilaterali con i trasferimenti netti dall'Unione, dal bilancio dell'Unione più SNP tra il 2010 e il 2015 sono in totale 223 miliardi di euro, il che significa 125% del PIL. A questo dobbiamo aggiungere che il sistema di sostegno europeo al sistema greco ammonta a 118 miliardi, cioè il 66% del PIL. E poi dovremmo aggiungere anche a questo il denaro che è stato prestando dal Fondo Monetario. A questo dobbiamo ancora aggiungere il haircut implicito, implicito, anzi esplicito proprio nella ristrutturazione del debito che è avvenuto. Il volume era di 200 miliardi e il haircut era di 53,5%. Adesso non voglio dare troppa importanza o un'eccessiva importanza a questi numeri che sono comunque significativi, ma solo per mostrare il dramma della situazione greca. E questo dramma non è legato alla responsabilità degli altri o solo degli altri. Grazie. Ma non ha risposto alle mie domande specifiche sul regolamento. Mi scusi onorevole Marias. Nel caso dell'Italia lei ha fatto un'eccezione. Non potete interrompere. Io ho citato il regolamento e lei non ha risposto. tutti sappiamo che questo regolamento ha delle limitazioni. Una limitazione è l'articolo 123. Applicato questo caso in Italia dovrebbe quindi rispondere. Quando è stato governatore della banca italiana dovrebbe leggere meglio la legislazione la normativa europea. Ma io sono disponibile a discuterne con lei. Io non ricordo. Se dice che così è stato ma è per quello io le ho fatto questa domanda specifica. Questa è un'eccezione. Bisogna leggere la normativa e non si devono speculare delle risposte. Avete sentito Draghi è sembrato molto confuso per il momento storico nel quale ci troviamo. Il 30 giugno ci saranno delle importanti scadenze per la Grecia e queste scadenze saranno un po' la risoluzione o meno dell'eurozona e dell'euro. Dobbiamo capire se l'euro ha voglia di continuare ad essere la moneta di 19 paesi o ci sarà una volontà politica per ritornare alle monete nazionali. È un progetto diverso da quello basato su un'unione di banche che non porta assolutamente beneficio all'economia reale e a tutti i poveri europei che in questo momento chiedono invece risposte dalla politica.